Per riflettere a fondo sulla rappresentazione del centro e del suo posto, la periferia, si dovrebbe partire da un'immagine forte, solida, da un concetto che possa richiamare l'uno e l'altro. Questo concetto può essere il limite, il concetto di limite, che rappresenta un concetto forte e anche con riferimento a un'immagine che può essere forse l'immagine più perfetta del limite, quella dell'isola. L'isola, se la osserviamo in chiave di identità occidentale, è ciò che siamo stati. Noi per secoli abbiamo detto io sono io. Questa immagine è durata per tutto l'Ottocento, il Novecento l'ha scardinata, perché il Novecento è stato il secolo dell'antagonismo, dell'io è un altro. Oggi viviamo in una dimensione ancora diversa, possiamo dire io è anche un altro. Questa è la dimensione invece della penisola. L'Autramont, poeta ottocentesco, scrive Vecchio oceano, sei simbolo dell'identità sempre uguale a se stesso. Eccola, l'immagine dell'isola, l'immagine dell'Occidente concentrato su di sé. John Donne, ripreso da Amos Hoss, scrittore gerosolimitano, pensa invece che nessun uomo sia un'isola, e rimaniamo quindi all'interno della metafora marina, e scrive Nessun uomo è un'isola Amos Hoss lo riprende, dice John Donne in questa meravigliosa frase cui umilmente oso aggiungere, sempre oso, nessun uomo e nessuna donna è un'isola, siamo invece tutti penisole, per metà attaccate alla terraferma e per metà di fronte all'oceano, per metà legate alla tradizione e al paese e alla nazione e al sesso e alla lingua e a molte altre cose, mentre l'altra metà chiede di essere lasciata sola, di fronte all'oceano. Credo che ci si debba lasciare il diritto di restare penisole. Ogni sistema sociale e politico che trasforma noi in un'isola darwiniana e il resto del mondo in un nemico o un rivale è un mostro, ma al tempo stesso ogni sistema sociale, politico e ideologico, che ambisce a fare di ognuno di noi null'altro che una molecola di terraferma, non è meno aberrante. La condizione di penisola è quella congeniale, al genere umano, è quello che siamo e che meritiamo di essere. Così, in un certo senso, in ogni casa, famiglia, in ogni relazione umana, stabiliamo un contatto con un certo numero di penisole e faremmo meglio a rammentare tutto questo prima di tentare di foggiare l'altro, di farlo voltare e pretendere che imbocchi la nostra strada, quando invece ha bisogno di trovarsi di fronte all'oceano per un certo tempo. Ciò vale per gruppi sociali e culturali, per civiltà e nazioni. Nessuno è un'isola e nessuno potrà mai amalgamarsi completamente con l'altro. L'immaginare l'altro e riconoscere la nostra comune natura di penisole possono rappresentare una parziale difesa dal gene fanatico che tutti abbiamo insito in noi. Questo Amos Osso, che riprendeva l'affermazione di John Donne, nessun uomo è un'isola. Se pensiamo a questa dimensione della penisola e pensiamo alla identità come una identità dinamica, relazionale, allora forse usciamo dalla nostra identità e ci avviciniamo a quel concetto che può essere definito come identificazione. L'identità ce la diamo noi, l'identificazione ci aiutano a sostenerla gli altri, sono gli altri che ci identificano. Questa identità dinamica è anche un modo per affrontare il concetto del limite dal quale sono partito per demarcare i luoghi che pertengono al centro e i luoghi che pertengono alla periferia, alle periferie. Anche il limite può essere dinamico. Possiamo pensare al limite come a un recinto, ma il recinto lo possiamo saltare. Possiamo pensare al limite come un confine, ma il confine divide e insieme condivide. Possiamo pensare al limite come una frontiera. La frontiera chiude ma apre, apre verso nuovi orizzonti, proietta verso il nuovo. Pensiamo a espressioni come spirito di frontiera o linguaggio di frontiera. Terrestro frontiera deriva, discende dal latino frons, fronte, e quel che abbiamo di fronte in qualche modo ci proietta verso ciò che possiamo osservare anche se è lontano. Ecco, vista in questa prospettiva, in questa chiave, il limite appare dinamico. Però il centro e la periferia non solo hanno per secoli rappresentato due poli contrapposti, anche ferocemente l'uno all'altro, ma hanno rappresentato un investimento forte anche nell'immaginario culturale, quindi non solo come luoghi geografici, fisici. Se pensiamo allora all'immaginario culturale e proviamo a proiettare le geografie marine o di altro genere o fisiche su questo immaginario, allora pensiamo immediatamente a quel che fino agli eri, in parte ancora oggi, abbiamo definito, abbiamo chiamato conflitto di civiltà. Forse oggi lo viviamo meno, il conflitto di civiltà, perché, come spesso è accaduto nella storia non solo occidentale, si è generato uno spostamento di prospettiva, una nuova polarizzazione. Oggi non viviamo più tanto lo sconto tra civiltà, la nostra, quel che rimane, la civiltà occidentale, e le altre. Non siamo più il centro che potevamo pretendere di essere anche solo 20 o 30 anni fa, così come le periferie non sono più le periferie, così come le giudicavamo dal nostro punto di vista occidentale 20 o 30 anni fa. Oggi ho l'impressione che si sia spostato l'asse di questa contrapposizione, che la polarizzazione avvenga in modi diversi. Penso piuttosto, come luogo di confronto tra un centro e una periferia, penso piuttosto alla contrapposizione tra la conservazione culturale e la cancellazione culturale, di cui abbiamo sentito parlare molto anche in questi ultimi tempi, la cancel culture. La polarizzazione, in questo caso, tra una conservazione culturale, che sta sempre più divenendo periferica, che in qualche modo è rappresentata da una cultura indifesa e dall'altra invece il nuovo centro, che è ben figurato, ben rappresentato dalla pretesa di unicità del politicamente corretto, nei suoi eccessi ovviamente, come pensiero unico, come nuova religione laica, che sostituisce con la sua pretesa di esclusività o prova a sostituire con la sua pretesa di esclusività le grandi religioni monoteiste, il cristianesimo, l'islamismo, l'ebraismo. Ma torno alle geografie marine. Penso a un'altra immagine che può aiutarci a ragionare sul centro, sulla periferia e sul concetto di limite, cioè il mediterraneo. Se pensiamo al mediterraneo e alla civiltà mediterranea, all'area mediterranea, anche in questo caso riusciamo a fissare i confini, riusciamo a individuare i limiti, riusciamo al limite, scusate il gioco di parole, riusciamo anche a individuare qualcosa di più di un limite, un muro. Pensiamo alla strutturazione geografica di quest'area mediterranea, delimitata ad ovest da quelle che un tempo erano le colonne d'Ercole, oggi lo stretto di Gibilterra. Pensiamo al sud di quest'area mediterranea e, lo dirò fra un po', alla fortezza Europa che spesso abbiamo visto identificare con il vecchio continente che si difende da presunte ondate migratorie e all'est, al limite est, l'area delimitata invece, lo dirò fra un po' con riferimento a un passo di Platone, dal fiume Fasi, fiume che oggi ha un nome diverso e sfocia comunque, ieri come oggi, nel Mar Nero. Partiamo dalle colonne d'Ercole, l'origine di tutto, un limite nel limite peraltro, perché nelle zone limitrofe allo stretto di Gibilterra ci sono grotte, e ce n'è una in particolare, una grotta marina, la grotta di Goham, dove all'interno c'è un cancelletto scavato sul pavimento, risale a 40.000 anni fa, quindi di età neandertaliana, è stato scoperto nel 2012 ed è una sorta di segnaposto. Il cancelletto delimita l'area all'interno della quale si trovava chi allora risiedeva in quella grotta, sia pur temporaneamente. Se io mi posiziono in quel punto preciso, spostandomi di pochissimo, riesco a vedere l'entrata della grotta e quindi posso scorgere l'eventuale ingresso di predatori o di altri che potrebbero voler occupare il posto in cui mi trovo, in cui allora mi trovavo. Quindi più che il cuore dell'appartamento di un tempo è un andito, una sorta di anticamera, è un limite, un segnaposto, un limite che separa la parte interna della grotta dalla parte esterna. Un limite, nel limite dicevo, perché conosciamo a fondo la storia delle colonne d'Ercole, ricordiamo appena l'episodio dantesco di Ulisse, che proprio per aver superato le colonne d'Ercole, per quell'atto di superbia, muore con i compagni che aveva portato con sé in quella sua impresa. Al Mediterraneo pensiamo però, dicevo, anche per altri due aspetti interessanti, importanti che delimitano l'area di cui sto parlando e che configurano sempre un rapporto più o meno conflittuale, ma non sempre conflittuale con le relative periferie. Il Mediterraneo è stato anche luogo di frontiera, a difesa, dicevo, di quella fortezza Europa, che è la stessa fortezza che Hitler, con la costruzione del Vallo Atlantico, mai portato a termine, dichiarò di voler difendere dagli attacchi alleati. Oggi l'idea di una fortezza Europa ovviamente è meno forte di quella di allora, ma resiste ancora, non solo nell'immaginario collettivo, resiste anche come idea di un'Europa che debba, in un modo o nell'altro, difendersi da presunte ondate migratorie. E recupera questa idea della fortezza Europa il concetto di un'area mediterranea che è un limite, perché il Mediterraneo separa nelle due sponde del mare di cui parliamo la nostra Europa dal versante africano, ma è anche un muro, proprio perché è come se lo vedessimo eretto a baluardo, a difesa del vecchio continente. Se ci spostiamo però ad est troviamo un'immagine diversa, recuperando sempre qualcosa della nostra memoria culturale, perché il Mediterraneo è stato in effetti anche terreno d'incontro, non solo di scontro tra civiltà e popolazioni, è stato il mare Nostrum, continua a essere in parte ancora il mare Nostrum, ma è anche stato il mare loro. Ed è interessante al riguardo recuperare qualcosa di quel volto amico che è stato anche il Mediterraneo. Platone, in un celebre passo del Fedone, a parlare a Socrate, paragonava il Mediterraneo a uno stagno, uno stagno intorno al quale abitavamo, e in qualche modo lui immagina si abitasse, come formiche o rane. Il passo, che leggo in traduzione, è questo. Ritengo che la terra, scrive Platone, sia grandissima e che noi dal Fasi, il fiume Fasi, che dicevo sfocia nel Mar Nero ed era considerato il limite est del mare navigabile, dal Fasi alle colonne d'Ercole, non ne abitiamo che una ben piccola parte, solo quella in prossimità del mare, come formiche o rane intorno allo stagno. E molti altri popoli vivono anch'essi in regioni un po' simili alle nostre. Quindi il Mediterraneo in questo caso, come luogo, dicevo, amico o amichevole, luogo in cui chi abita lì nei pressi si raccoglie, tutto intorno però, al modo di formiche o di rane. Se ripensiamo adesso, sempre partendo dal Mediterraneo, ripensiamo a quello che il Mediterraneo ha rappresentato per noi e quel che oggi rappresenta sempre per noi, certamente possiamo riconoscere nel Mediterraneo di oggi un vecchio centro. e riconosciamo ad ovest un vecchio limite, perché le colonne d'Ercole le abbiamo superate. Riconosciamo ad est un altro vecchio limite, perché noi siamo andati ben oltre il Mar Nero, ben oltre il fiume Fasi. Continuiamo ad avere l'impressione che il Mediterraneo possa essere ancora un muro a difesa di quella fortezza Europa di cui dicevo, ma un muro che si aggiunge ad altri muri. Ecco, qui si tocca un punto fondamentale, perché è vero, sono caduti tanti muri, abbiamo visto cadere il muro di Berlino, abbiamo pensato che quel muro potesse essere l'ultimo, ma tanti altri muri sono rinati. li abbiamo visti costruire o ricostruire, abbiamo visto erigere muri un po' ovunque, a difesa di territori più o meno circoscritti o più o meno ampi, abbiamo visto costruire recensioni elettrificate, serpentoni di cemento e di filo spinato, barriere protettive e antimigranti un po' ovunque nel mondo. Potremmo citare tantissimi muri che sono nati, rinati ovunque, tra la Cisgiordania e Israele, tra l'Iran e l'Afghanistan, tra l'Arabia Sudita e lo Yemen e se pensiamo ancora una volta al vecchio continente, sappiamo perfettamente quanti muri la vecchia Europa ha costruito o ricostruito in questi ultimi anni. Quindi risorgono nuovi muri e con la rinascita di nuovi muri risorgono nuovi centri, risorgono nuove periferie. Alcune di queste periferie sono interne ai paesi, alle nazioni, perché in molti casi gli stessi confini fra le nazioni si indeboliscono e il fatto che risorgano o sorgano nuovi muri all'interno delle nostre vecchie nazioni, questo fatto ci fa riflettere ancora una volta non solo sulla rinascita dei muri che dicevo, ma sulla rinascita per l'appunto di nuovi centri e nuove periferie. Pensiamo alle cosiddette gate communities, cioè le comunità cancellate, protette da sistemi di vigilanza iper sofisticati, protette dalle ere circostanti, le periferie magari di vecchie grandi città, di metropoli che pullulano di personaggi ritenuti pericolosi che costringono i residenti in quartieri ricchi a proteggersi, le comunità cancellate che sorgono come nuove roccaforti, un po' a imitazione dei vecchi castra alto medievali tra il IX e il X secolo che proteggevano i loro abitanti da eventuali assalti di popolazioni pericolose o semplicemente da assalti di chi poteva minare la vita interna delle comunità residenti. Ecco, i nuovi muri sono spesso muri interni, interni a quelle nazioni compresi quei luoghi che possiamo definire in club, interni a quelle nazioni che ridefiniscono i loro confini, rendono più labili i confini nazionali ma creano confini al loro interno. Accanto ai muri fistici ci sono però anche muri virtuali che costruiscono ancora una volta nuovi centri e nuove periferie. Anche per questo aspetto ho l'impressione che assisteremo sempre più alla costruzione di nuovi muri virtuali in aggiunta a quelli già esistenti. Cosa intendo dire? Intendo dire che apparentemente la rete è un luogo in cui possiamo circolare liberamente. Internet ci ha promesso una libertà però che non è ancora tale e non solo non è tale ma sta costruendo la rete al suo interno muri in molti casi pericolosi o sempre più alti. sono i muri con cui per esempio si proteggono alcune comunità ristrette di utenti che vivono all'interno del loro mondo escludendo chi a quel mondo non appartiene. Questi nuovi muri virtuali sono in molti casi anche estremamente pericolosi perché creano l'effetto di quelle comunità cancellate di cui dicevo. Solo che aggiungono a quella idea di una comunità che può difendersi anche talora un'idea molto diversa di una comunità aggressiva che non si limita a difendersi ma che invece attacca. Si concentra su di sé difende le sue idee a spada tratta e per difendere quelle idee nel modo anche più antagonistico possibile giunge ad attaccare altre comunità. e quindi aumentare anche il livello di scontro virtuale che già oggi noi sappiamo essere piuttosto alto. Giorno dopo giorno cadono tutti i muri cadono tutte le barriere cadono tutti i limiti i confini i muri tra i sessi la nostra identità sessuale è sempre più fluida lo stiamo sperimentando anche in questi giorni stiamo riflettendo un po' tutti sul futuro del disegno di legge ZAN che punta l'indice contro l'odio di genere e che proprio per questo prova fa a ridefinire l'identità sessuale nei modi più fluidi possibile se vogliamo e cioè nei modi che ci si presentano ormai davanti ai nostri occhi tutti i giorni crollano le barriere tra i gusti alimentari io stesso potrei definirmi flessitariano non sono arrivato ancora ad essere vegano consumo limitatamente pesce un paio di volte alla settimana ma ho abolito la carne quindi anch'io sono un essere ibrido e potrei definirmi ibrido anche per tanti altri aspetti di una vita che ci appare per l'appunto sempre più fluida sempre più sfuggente riprendendo peraltro la notissima immagine della società liquida di Bauman del grande sociologo e antropologo Bauman quindi mentre ricostruiamo o costruiamo nuovi muri mentre erigiamo ahimè nuove barriere i muri e le barriere che proviamo a ricostruire sono di fatto sconfessati dall'abbattimento di tanti muri che vengono fatti crollare l'uno dopo l'altro ovunque vorrei terminare con una citazione che trago da un racconto di Giabascego e che ci dà il senso di che cosa possiamo intendere per centro e per periferia applicando il rapporto che ho detto dinamico a un caso narrativo di Giabascego ha scritto in questo racconto che a Roma si corre sempre a Mogadiscio non si corre mai e ha detto di sé di essere una via di mezzo tra Roma e Mogadiscio e cioè di camminare a passo sostenuto eccola l'idea di poter finalmente veder convergere in una sola immagine in un solo luogo quel centro e quella periferia che per secoli si sono anche ferocemente combattuti l'uno con l'altro